Cari Tull, caro Ed Sheeran, caro Eddie Vedder, cari The Cure, sono Ike Schmidt, il direttore delle galerie degli uffizi. Vorrei salutare tutti voi ragazzi, eroi di Firenze Rocks 2019 che sta per iniziare. Il rock è una grande arte e l'arte è da sempre una grande amica del rock. Per questo voglio invitarvi insieme a tutti i vostri fan in uno dei posti più rock di Firenze, la Galeria degli Uffizi. Voglio dire, conoscete qualcuno di veramente più rock del nostro Caravaggio? Vi faccio un in bocca al lupo per i vostri fantastici concerti e vi aspetto tutti qua in galleria a presentarvi i nostri capolavori. Uffizi Rocks! Grazie a tutti!